Per l'Abruzzo si prospetta un Natale in zona bianca ma con un piede in zona gialla, secondo le previsioni di uno studio dell'Associazione Italiana Epidemiologia, perché tra un mese avremo 455 contagi al giorno, quasi 160 pazienti ricoverati, che faranno segnare il superamento di due dei tre parametri per le restrizioni. Nel frattempo servirà qualche settimana per capire la pericolosità della nuova variante sudafricana. Intanto prosegue la campagna vaccinale e dal 15 dicembre il personale scolastico sarà obbligato a vaccinarsi. Per chi non si vaccina non scatta il licenziamento ma la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Pronta a sospendere i propri iscritti anche la Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Dontoiatri della provincia di Chieti, Lucilla Gagliardi. Una decisione pienamente condivisa anche da Mauro Petrucci, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Da subito in prima linea nella campagna vaccinale anticoronavirus a ripatiatina, il dottor Petrucci esorta tutti a vaccinarsi e dice ai pazienti che non vogliono farlo di cambiare medico. Io ai pazienti che non si vogliono convincere che essendono più delle fondi non scientifiche, non attendibili anziché quelle mediche, sto invitando a cambiare medico perché voglio dedicare il tempo a chi crede in me. Perché se io, così come prescrivo una qualsiasi altra cura per una qualsiasi altra patologia, nel momento in cui il mio paziente non mi segue, allora viene meno il rapporto di fiducia. Se io per il Covid dico che devono vaccinarsi e non vogliono farlo, altrettanto cade un rapporto di fiducia, perché vuol dire che tu non ti fidi di quello che io ti dico e allora non ci può essere fiducia. Siccome il nostro rapporto è fiduciario, allora mi sento in difficoltà nel curare questa gente. Loro sono anche vittima, tra virgolette, di tutto quello che sentiamo sui media, sui social, perché c'è molta ma molta disinformazione, soprattutto io non condivido quando vengono chiamati a dissertare dei personaggi anche illustri nel loro campo, nella loro materia, ma che vengono a dissertare di medicina. Faccio un esempio, se chiamiamo un filosofo, io non mi sognerò mai di andare a dissertare con lui di filosofia pretendendo di insegnare a lui che cos'è la filosofia e viceversa non posso accettare che lui venga a dire a chi è un medico, a chi è uno scienziato, a dare lui delle disposizioni o a dire come stanno le cose, perché il nostro è un lavoro che richiede un aggiornamento quotidiano. Per cui non posso pensare che semplicemente navigando su internet o sentendo qualche trasmissione possa io competere con un medico o con un esperto, assolutamente no. Però ci sono degli irriducibili e là purtroppo c'è poco da fare, probabilmente non li convinceremo mai e allora ben vengono le misure di restrizione perché io penso che la libertà sia innanzitutto la libertà non individuale ma in una società la libertà degli altri, quindi preoccuparmi anche degli altri perché io mi vaccino non solo per me stesso ma anche per gli altri e allora se tu non ti vaccini vuol dire che sei egoista, che pensi solo a te stesso e non ti preoccupi degli altri.